... Ginetta lei è molto demoniaca lei è molto demoniaca mi piace tantissimo questo costume sono un po' troppo in avanti sono troppo un po' sulla fronte forse i cornini però calini insomma defetto ecco defetto no vabbè c'è tipo il cappello tipo stile cappellaio matto e vabbè ma è gigantesco è bellissimo è bellissimo no guarda c'è tutto il filo spinato intorno stupendo la versione dark del cappellaio matto meraviglioso ok questa no vabbè no sei orrenda Ginetta mio dio no ma stiamo scherzando no è bruttissima ma è bruttissima ma no ma ti prego cioè è bellissimo ma comunque bruttissima là c'erano altri due da clown scusa la differenza ah i capelli hanno i capelli diversi ok scusa è questa ah ok sono i capelli diversi una più brutta dell'altra va bene perfetto no scusa ma questa ma che roba è oddio no ma è bruttissima le sta malissimo no scusa ma ti pare buongiorno cioè tu ti svegli al mattino ti guardi allo specchio ti viene l'infarto come siamo sexy Ginetta mamma mia no ci sono le orecchie oh che carina no queste le voglio tenere ma stai scherzando anche dopo Halloween queste le teniamo sono tipo orecchie di gerboa sono troppo belline Ginetta sei adorabile c'è proprio la folletta di aberration vediamo sta zucca e che carina la zucca guarda la zucca che carina mi piace questa zucca guarda è tutta illuminata dentro guarda che figata molto più cattiva dell'altra molto più cattiva e più ben fatta dai eh questa è carina con la faccia è un po' troppo grande però forse non c'è la versione più piccola cioè è un po' grande per la faccia di Ginetta mi sa cioè la bocca riesce dal buco del naso non è carino ecco ah però dai però però forse vista così un po' in controluce ups terremoto e poi niente un attimo durante il terremoto posizioni male la telecamera in terza persona e ti ritrovi nel sottosopra praticamente ma ti pare? ma ti pare? Eleven dove sei? qualcuno ci aiuti? ok anche sta maschera è molto figa questa è molto più bella rispetto all'altra con il teschio dai guarda com'è in quel tante Ginetta ripeto è un po' grande però da lontano con la giusta angolazione secondo me fa il suo effetto allora cosa ci manca da testare prima di passare al calderone le zucche ok queste dovrebbero essere decorative presumo ne proviamo un po' vediamo cosa ne esce fuori e le decorazioni per il muro ah sono tipo tipo degli instensi degli adesivi ok allora help me lo voglio allora dicevamo qui abbiamo una bella testa guarda che carina guarda che carina tipo qua così che schifo va dentro il muro e poi riesce riesce stai scherzando è bellissimo mi verranno tanti di quegli infarti se mi dimentico te la lascio lì ma scherziamo allora qui c'è una bellissima zucca decorativa che mi piace molto e mi sa che la metteremo qui no di qua di qua oh guarda che bellina che è ma è carinissima è molto cartonata cioè molto cartone animato mi piace molto allora di adesivi abbiamo dei quadri ah ma sono giganteschi ok pensavo sono più piccoli uh bellissimo bellissimo questo quadro no aspetta l'altro lo mettiamo di là allora dov'è l'altro ce n'era un altro vero era questo no questo non è un quadro no voglio un altro quadro c'è questo di una bambina che urla che mi sembra di un film ah la cosa è The Ring oddio che brutta no 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 aspetta la tolgo la tolgo ce la andiamo a mettere nella camera da letto ecco guarda la mettiamo qui ah c'era il fantasma mi ero dimenticata del luogo del delitto scusate vi interrompiamo solo un attimo guarda voglio piazzare questa cosa chi è che urla ma il fantasma che ha fatto l'urlo è il quadro che stavo piazzando no vabbè non devo farle queste cose mi fanno venire gli infarti dicevo volevo piazzare il quadro qua eccovi vicino al letto per addormentarci fate sogni tranquilli ciao basta me ne vado non lo voglio più vedere quel quadro mi inquieta da morire avrò gli incubi oh c'è questa bella mano insanguinata che io direi la possiamo mettere tipo su una porta sulla porta me la fai piazzare no non me la fai piazzare sulla porta vabbè ma sei un fetente però vabbè allora tipo qua così qua sopra bella carina la mano insanguinata ok è molto halloweeniano tutto ciò allora qua ci mettiamo questo che mi sembra molto carino e divertente e qua ci sta benissimo ah qui abbiamo un help me bellissimo aspetta testa dove sei guarda te lo lascio no dai non me lo fa mettere qua ah ok ok così perfetto help me nessuno può aiutarti amico allora aspetta fammi prendere anche la mano insanguinata che ci sta benissimo lì fa tutti dei rumori viscidosi la mano però fa un po' impressione dico la verità riesco a passare signor jason le chiedo scusa ma lei mi fa un po' impressione mi allontano guardi la metto di qua la mano così perfetto perfetto bellissimo mi sa che togliamo questo quadro schifo no non voglio raccogliere jason zombie voglio raccogliere il quadro dietro posso raccogliere il quadro dietro perché non riesco a passare perché c'è la sedia aspetta che ci sono un sacco di altri quadri e ora tempestiamo casa allora solo che sono molto grandi dannazione sono incredibilmente grandi aspetta devo trovare la parete adatta tipo qua così che bello è bellissimo questo cos'è vabbè ma sono enormi dove cribbio li piazzo tipo qui forse qui ci può stare bene così no vabbè il cavaliere senza testa adoro ma poi sono fatti benissimo sono fatti troppo bene no questo nightmare before christmas no dove lo mettiamo di qua di qua riesco a metterlo lì sì dai 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 che ce la facciamo guarda che bello nightmare before christmas stupendo ah lo dovevamo piazzare un po' più in alto vabbè poi lo sposto poi lo sposto no vabbè adoro adoro alla follia questa mod anche di qua fammi togliere questa tela poi al massimo se un giorno ci gira di rifarle le rifacciamo ma per ora voglio questi quadri meravigliosi se riesco a piazzarlo grazie troppo bellini troppo ne abbiamo altri ah no gli altri sono tutti adesivi tipo dovrebbe esserci questo un fantasmino molto carino ok questi sono molto amichevoli qui abbiamo ah delle zucche uh bellina questa molto in cacchiatella molto bellina no vabbè ci stiamo riempendo casa di roba e viva il minimalismo proprio viva il minimalismo perfetto bellissimo bellissimo sono un po' sfalsati ma non importa è carinissimo ma vabbè dai guarda che casa guarda che casa happy halloween bellissimo guarda che carino se il raptor non ci dà le codate in faccia è bellissimo stupendo 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 adoro tutte le cose di questa mod tutte abbi pazienza ma questo mi sa che lo metto subito fuori perché è troppo in mezzo alle scatole ora lo piazziamo fuori proprio fuori di casa tipo qua qua nell'angolino così guarda com'è carino bellissimo che schifo Gesù che continua a muoversi la testa che continua a fare dei suoni viscidosissimi ah è vero che c'erano questi semi da buttare tipo per terra tipo buttiamoli qua tipo ah qui così ok e ora qua mi dovrebbero nascere tipo delle zucche ci possiamo fare l'orticello di zucche che carino e nascono devo mettergli fertilizzante devo mettergli roba ah no 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 ok spunta per i fatti suoi perfetto perfetto non ha bisogno di niente la pianta perfetta la pianta perfetta non ha bisogno di acqua di concime niente ok dai l'altare è approvato decisamente ci ha dato grandi gioie grandi decorazioni adesso però vorrei testare il nostro calderone e in teoria anche lui dovrebbe darci meraviglie allora qui abbiamo i candy corn però servono le pannocchiette e noi non ce l'abbiamo perché non abbiamo ancora fatto la serra quindi probabilmente le testiamo dopo ce le facciamo spawnare portate pazienza devo usare i comandi poi per questa pozione servono carne marcia e ok fin qua va bene occhi di dodo dove li piglio le zampe di ragno la lingua di gatto dove trovo i gatti su aberration e la pelliccia di pipistrello non lo so dove la prendo sta roba vabbè vediamo di fare le altre cose e di capire come risolvere allora qui serve solo carne va bene perfetto per questo serve solo carne e per la torta invece di zucca ci servono le zucche la nostra piantina è cresciuta piantina si è cresciuta non tanto ah però ci ho già dato delle zucche ok perfetto e anche tanti semi e però ah no se ne va se gli tolgo i semi no aspetta scusa non volevo non volevo aspetta la voglio ripiazzare e ne piazzo anche un'altra guarda ne metto una anche oddio boh c'è troppa roba qua la metto qua cos'è ogni tanto sento un suono viscidoso tipo ma è il calderone ah il calderone vorrà legna io presumo eh immaginavo va bene ok quindi se noi ora accendiamo ci possiamo fare ah ce le fa subito così non devo cliccare niente ok perfetto in base a quello che c'è nel calderone lui inizia a craftare ottimo va bene ok ok allora per ora testiamo queste cose qua allora per la torta di zucca ci dice che la possiamo mangiare noi o possiamo utilizzarla per per addomesticare gli animali della strega cioè i fantasmi non sono domesticabili ok i demoni i demoni ecus ah è vero che c'è una specie di demoni ecus ok e questo invece ah ok allora questo in teoria se noi lo beviamo dovrebbe avere vari effetti misteriosi tra cui se non erro far comparire le creature che si addomesticano con la torta ora però prima di di qualsiasi altra cosa io vorrei mangiarla se la mangio che succede ah no niente se noi mangiamo la torta non succede niente speravo succedesse qualcosa di interessante invece no ok beviamoci questa bevanda cosa ho sentito un verso uh cos'è ciao cosa sei ciao ma non posso fare niente con te no non posso fare niente non posso neanche domesticarti non posso picchiarti non posso raccoglierti no tu mi girerai per casa per sempre va bene se la bevo di nuovo cosa cosa è successo no bellissimo bellissimo no ti adoro sei perfetto sei fantastico e addirittura addirittura grande grandissimo mod mod di sempre miglior mod di sempre ok se la bevo di nuovo non è successo niente no mi è comparso un'altra di queste bestioline ma io non so che farci con queste bestioline cioè tipo gli devo sparare ah si forse si gli do aspetta gli do la 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 torta e sia domestica ok 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 perfetto tutto chiaro tutto chiaro ok quindi ora è nostro eh però non ho altre torte aspetta allora aspetta che ce ne possiamo fare ancora una si però io non voglio che tu mi prepari queste dai fammi togliere la carne ok vediamo di addomesticarci anche questo qual è il mio questo è il mio si perché c'è oh ce lo possiamo prendere in spalletta oh che carino guarda l'amore di questo creturino ok perfetto si voglio anche l'altra voglio anche l'altra ce la mettiamo in cameretta nel luogo del delitto dov'è l'altra e bestiolina scheletrica dove si è andata a nascondere là dietro no dove è che è andata è sparita ah è lì è lì è lì guarda che si nascondeva in mezzo alle tombe guarda che si nascondeva in mezzo alle tombe maledetta top appati la tortina si sono gerboascheletrici oh ma che bellini ma che bellini allora per ora lasciamoli qua si ma poverina questa è rimasta la freccia conficcata ma povera bestia ok vediamo testiamo di nuovo la nostra bevanda magica cosa cosa cos'è cos'è ah no è un pipistrello ah ma noi il pipistrello dobbiamo ucciderlo aspetta 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 eh non ho pallottole mi sa non ho pallottole riusciamo a buttarlo già addormentandolo tipo e il pipistrello non so dove sia andato abbiamo liberato un pipistrello sulla mappa di aberration non so come reagirà la fauna locale sinceramente vabbè speriamo di non aver fatto troppi danni cosa chi urla chi urla oh ragno oh ragno ragno ciao ragno ma sei addormentato è addormentato lo posso addomesticare ah ma non ho aspetta 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 non ho torte non ho torte aspetta fammi fare una torta al volo oh che bellino c'è l'effetto quando è acceso non l'avevo visto è molto carino molto molto carino ok vediamo se riusciamo ad addomesticarci anche il ragnetto uh uh abbiamo anche il ragnetto no ma davvero ma davvero e tipo lo posso prendere uh lo possiamo prendere aspetta aspetta no ah il regno noi ce lo portiamo in giro così ah ok cioè non è proprio un animale domestico cioè lo trattiamo un po' male povera bestia eh vabbè guarda come è fatto male cioè nel senso è fatto bene al punto da essere brutto è schifoso e ok ma quindi io il ragno adesso che stai fermo un attimo ragno che devo fare lo devo uccidere per prendergli le zampette cioè tipo ah ah che schifo però poverino ok ci ha dato zampette si ci ha dato 33 zampette di ragno perfetto che ci serviranno per craftare la pozione ottimo ottimo vediamo di far far comparire altre cose allora con queste bevande andiamo avanti a oltranza finché non ci compare qualcosa di interessante insomma ah ho sentito un verso strano cos'era un altro pipistrello un pipistrello pipistrello vieni qua vieni qua vieni qua visto 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 c'è svenuto no non c'è svenuto si è andato a incastrare là dietro aspetta aspetta ah non ci sviene questo ma porca puzzola lo dobbiamo far fuori eh eh si muove tutto strano si muove tutto strano ok ok e ci ha dato perfetto e ci ha dato la pelliccia di pipistrello oddio no era carinissimo c'era la faccina che spuntava dalla tomba e vediamo di ritestare oddio oddio cos'è un dodo strega no è un dodo strega aspetta no ma io lo voglio domesticare questo scusami ma è bellissimo sei morto no è morto oh lo volevo domesticare aspetta ma non è che è morto perché è tipo uno zombie no no mi sa che è morto morto peccato forse non si può domesticare va bene non importa tanto ci servivano solo gli occhi di dodo da mettere nel calderone ora ci manca solo la lingua di gatto perfetto ottimo vai andiamo avanti con i test pozioni cos'è 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 ciao ah il cavallo demone l'ecus demone aspetta è passivo gli dobbiamo dare la tortina aspetta aspetta lo voglio lo voglio fatemi arrivare alla bestiolina riesco a dargli da mangiare no non posso dargli da mangiare aspetta ma c'era scritto che era passivo tipo così no non mi fa dare niente oh io volevo dargli da mangiare scusa qui c'è scritto che l'ecus demone è passivo tamabile passivamente con la torta di zucca e quindi perché non mangi la mia torta di zucca proviamo ad aspettare magari deve calmarsi nel frattempo continuiamo i nostri esperimenti cosa un altro pipistrello no non mi interessano altri pipistrelli chi se ne frega mollalo lì un altro ecus un altro ecus dai vi potete far dar da mangiare almeno uno dei due tipo te posso darti da mangiare no tutti di livello 73 tra l'altro spawnano no l'altro è scappato oh no abbiamo liberato un'altra creatura un'altra creatura non del luogo su aberration oh cacchiarola un altro dodo strega no oh questo è vivo lo posso domesticare senti come ride si l'abbiamo domesticato abbiamo il dodo strega abbiamo il dodo strega no ti prego ti prego guarda com'è carino guarda com'è carino il dodo strega è bellissimo con la freccia ancora piantata sulla testa bellissimo stupendo aspetta aspetta c'è l'ecos lì tranquillo tranquillo forse forse riusciamo si abbiamo l'ecos uh abbiamo l'ecos uh l'ecos demone perfetto che bellino no vabbè dai guarda se non siamo super fighi sopra questa cavalcatura dai è bellissimo dai guarda che bellino no no a questo gli facciamo una stalla scherzi l'altro è ancora imparanoiato posso provare ad addomesticarmi anche l'altro tipo sei ancora in paranoia brutta tu lillo si ma quella è un'aquila non è un pipistrello abbi pazienza che bestia c'è comparsa ok l'abbiamo buttata giù è qua sotto è qua che cos'è proviamo a dare una fetta di torta ah è un corvo ah il corvo di po no vabbè bellissimo certo che ce lo domestichiamo però sbrigati ah e abbiamo il nostro corvo di po ci ho fatti vedere un pochino meglio cosa sei alla fine un argentavis in miniatura presumo si è un argentavis nero in miniatura sembra un piccione ragazzi non è un corvo abbiate pazienza ma questo sembra un piccione no 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 non ve lo approvo il piccione non ve lo approvo scusate carine tutte le altre cose ma il piccione proprio no piccione anche tu vai lì puoi atterrare per cortesia puoi atterrare per cortesia perfetto vedete è un argentavis nero rimpicciolito però è carino sembra un piccione ripeto non sembra un corvo però è carino allora ci siamo dovuti spostare un pochino dalla casa e dalle creature perché io continuo a bere questa pozione verda straschifosa nella speranza che mi sponi quel cavolo di gatto di strega e invece continuano ad arrivare aquilotti vabbè quel cavolo di corvi i ragnetti mi attaccano le bestie si incasinano è un macello e quindi niente proviamo qua e vediamo cosa non è sicuramente un pipistrello ecco appunto un pipistrello niente andiamo avanti a bere pozioni finché non ci compare sto cavolo di gatto che non vuole comparire ecco manco detto guarda è arrivato è arrivato non l'ho visto non ho fatto in tempo vederlo ma si però ragazzi calmatevi dai non ho fatto in tempo a vederlo l'ho solo sentito che mi attaccava vabbè però almeno abbiamo preso le lingue di gatto ok però ragazzi siete un po' troppo aggressivi io ero anche abbastanza lontana e dai proviamo ad allontanarci ancora zucca mamma mia non mi piace allontanarmi da sola sinceramente su aberration oh finalmente eccolo il gattino eccolo guarda è una tigre è una tigre miniatura è bellissima è bellissima no aspetta allora te ti voglio domesticare vieni 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 aspetta aspetta che c'ho i proiettili ma guarda come ha arrabbiato sto micetto guarda come e come fugge e come fugge ok si è addormentato perfetto ce l'abbiamo torta no non ce l'ho cribio aspettami qua sto arrivando arrivo subito dov'è il micio eccolo eccolo guarda che bellino che è guarda che bellino e cavolo prima non ho fatto in tempo aspetta prima non ho fatto in tempo a vederlo perché se lo sono pappati no vabbè dai è adorabile è adorabile non è per niente un gatto di strega però non importa lo possiamo tipo prendere no ah si lo possiamo no no aspetta ma no ma dai ma come è messo ma che posizione è ma è terribile cosa vuoi ragno cosa vuoi basta ah no c'avevamo ancora i sedativi pensavo di aver rimesso i proiettili vabbè non importa e finalmente ci possiamo creare la pozione finale no aspetta aspetta togli fammi togliere tutto il resto che altrimenti qua ok perfetto ci sta facendo questa pozione per la witch's broom ok va bene mi fido allora vediamo proviamo a consumarla speriamo di non morirci ah no ok perfetto è comparsa una scopa la scopa di harry potter bellissima bellissima nembus 2000 ottimo la possiamo provare davvero mi può ah vabbè ma non è che possiamo proprio andarcene in giro cioè rimaniamo altezza a questa altezza poi ginetta non mi sembra posizionata benissimo cioè insomma la scopa mi sembra che gli trapassi no non è una bella scena mi fa un po' impressione sinceramente star qua sopra va bene sì giustamente anche i megalosaurici guardano in modo strano e vi capisco ragazzi avete tutte le ragioni del mondo e vabbè quindi tutto sto casino per avere una scopa che non funziona cioè l'animbus 2000 che non vola cioè non siamo neanche così tanto pesanti da dire non riesce a sollevarci cioè no va solo così davvero uno aspetta uh ci siamo alzati che succede non ho capito come ho fatto però non ho capito uh che bello no possiamo volare con la scopa no vabbè ma stai scherzando allora aspetta sulla destra c'è un timer una specie di controlla rovescia penso sia il tempo che mi rimane per poter usare la scopa quindi vediamo di tornare a casa prima che scada non vorrei mai cadere tipo in questa zona guarda c'è tutta gente arrabbiata qua no vabbè ma è bellissimo sì però io non ho capito come ho fatto cioè ho schiacciato un po' di roba a caso allora aspetta aspetta è ora per atterrare così ok ah devo saltare ok sono una vabbè a me sembrava di averlo pigiato il pulsante per saltare e poi basta ripigiarlo e atterriamo ok ok bellissima bellissima l'animus 2000 guarda uhuu non abbiamo più paura di aberration noi figurati una vada che da avrà risolviamo tutti i problemi di aberration guarda oh che bello finalmente posso visitare questa zona senza temere nulla senza temere nulla ok perfetto abbiamo trovato il modo per poter volare su aberration senza creature volanti ottimo no super approvata cioè la scopa di harry potter assolutamente approvata meravigliosa meravigliosa va bene ragazzuoli allora io direi che questa mod è assolutissimamente super super approvata mi piace da morire allora mi raccomando mettete un bel like se il video vi è piaciuto fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video noi ci vediamo in un prossimo episodio baci e braci a tutti ciao 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 volare su aberration Oh 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 oh